Salve a tutti gente, sono AlexPios e oggi siamo su Clash of Clans Dovevo fare vedere gli attacchi in war, però... La war è uscita questa, vi faccio vedere Tra l'altro Davide sta attaccando Non ha fatto meglio... non ha fatto solo una stella Purtroppo questo è un clan a livello 7, non posso farci niente Cioè non ci abbiamo potuto far niente E noi, boh, io per sta war ho fatto un attacco solo però non attacco più Perché tanto ormai siamo a 30-11, boh, ciao, ci hanno fatto fuori a tutti Io non vi faccio vedere gli attacchi in war più che altro Sto video lo faccio per ringraziare un mio amico Che grazie a lui ho aperto il canale Questo mio amico qua aveva lui il canale, no? E... boh, io... Mi è sempre piaciuto avere un canale, però non avevo i mezzi giusti e l'ispirazione giusta Poi ho saputo che questo mio amico qua, tramite un altro mio amico Ha aperto un canale E... boh, allora mi sono ispirato anch'io Mi ha proprio ispirato ad aprirmi il canale E... boh, io lo ringrazio molto perché grazie a lui ho aperto il canale E... la storia... Lo youtuber è NickThePlayer La sua storia è che lui aveva già un altro canale Solo che per colpa di varie motivazioni che non voglio raccontare Se... perché penso che lo vedrà sto video e non so se dovrò raccontarle o no Poi lascerò il video del suo canale in descrizione Quindi, se volete passare dal suo canale Lui fa giochi play 4, fa di tutto e di più Vi consiglio di passare E... lui aveva già un canale prima Solo che poi per varie motivazioni ha dovuto chiudere Adesso si è aperto sto canale qua E... boh, sta facendo un giochi della play 4 E piano piano sta crescendo di nuovo Io, grazie a lui, ho avuto l'ispirazione per farlo YouTube Perché l'ho visto, a me piaceva tanto come faceva i video Mi è sempre piaciuto Solo che... Vi do un consiglio Lui... Non ha lì ancora l'ispirazione per farsi vedere Quindi... Ora Spolliciate più che potete sto video Per incoraggiarlo Più che altro iscrivetevi al suo canale E... commentatevi sempre Fatti vedere, fatti vedere Così lo incoraggiate a farsi vedere Perché io voglio che si faccia vedere Spero che lo vedi Nick Se vedi sto video, fatti vedere Come faccio io E... boh Mi sembra più che giusto Farsi vedere Io inizierò poco a farmi vedere E... boh New York X Comunque adesso vi faccio vedere il suo villaggio di Clash of Clans Perché anche lui ha Clash of Clans Questo è il mio amico Perché è il mio amico Eccolo qua Leon Questo è il suo villaggio Nel clan The Ascension Non è mai stato Non so se è capo del clan No, non è capo Pensavo che era capo però Magari una volta Non è detto che lo faccio io nel mio clan E facciamo un video insieme Magari viene un giorno qua da me E facciamo i video O queste cose Mi piacerebbe tanto Io dico solo Non lo ringrazierò mai abbastanza Per me mi ha dato l'ispirazione E... Io ti faccio sto video dedicato a te Perché te lo meriti Nick Sei un grande E... boh Ragazzi vi chiedo scusa se non ho fatto vedere i video degli attacchi Però vabbè Non ve lo faccio vedere perché purtroppo ho fatto una stella Quindi... Non posso farci niente Pensa che col mio terzo Mi sono dovuto attaccare un TH8 Io sono un TH7 Non... Come? Come? Non esiste nei celluli in terra Una cosa del genere Sì Sicuramente si vedrà mio fratello di qua Vabbè Coglione zitto Ecco Si sente Vabbè Anche lui è un canale Solo che non fa più video Perché è stupido Quindi boh A me su Splash sono più forti di te Sì Proprio È più forte di me Dice Coglione zitto Buoh raga Io spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Lasciate mi piace Io lascerò poi il suo link del canale in descrizione Iscrivetevi anche al suo E dateli il supporto per farsi vedere Perché io cercherò di spronarlo sempre di più Perché se non lo fa vado a casa sua e gli spacco la testa E... Buoh Io spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Lasciate mi piace E... Iscrivetevi anche al suo E anche sul suo Lasciate mi piace Commenti Eccetera eccetera Alla prossima Belli Alla prossima Eccetera eccetera